Buongiorno amici di Icaro TV, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale con l'informazione di oggi mercoledì 13 novembre. Apriamo subito con un servizio che riguarda la cartomante indagata per truffa, la presunta vittima illusa a caro prezzo di poter riconquistare l'ex compagno. Sentiamo nel servizio com'è andato. Con un rito a base di radici intrecciate denominato legamento aveva garantito alla cliente che avrebbe riconquistato nel giro di un anno l'ex compagno, un sortileggio amoroso pagato a caro prezzo, 2200 euro in contanti, che però non ha sortito gli effetti sperati. Vittima del presunto raggiro, una 49enne riccionese che ha denunciato la maga, una riminese di 60 anni, ora indagata dalla procura di Rimini per truffa. La donna, disperata e depressa dopo la fine della relazione con il suo compagno, era convinta di avere il malocchio. Così, nell'estate del 2020, si è rivolta prima ad alcuni maghi online, poi ad una cartomante di Rimini in carne ed ossa, che a su dire avrebbe visto lei una facile preda. Durante i primi appuntamenti la riccionese si sarebbe fatta leggere le carte per 25 euro, poi intenzionata a riconquistare l'amore della sua vita, ecco la decisione di affidare le sue speranze a un rito magico infallibile, a detta della stessa cartomante. Nonostante le difficoltà economiche, la 49enne ha soddisfatto le richieste della sedicente maga. Non vedendo risultati tangibili, ogni mese la contattavo per chiederle come stesse procedendo il rito, ha spiegato la donna in sede di denuncia ai carabinieri. Lei prima mi diceva di avere pazienza, poiché il mio ex compagno non era un tipo facile, uno di quelli che non si faceva legare. Davanti all'evidente fallimento del rito amoroso, la cliente ha preteso indietro 2.200 euro con risposti in due tranche, ricevendo però un netto rifiuto. La cartomante, difesa dall'avvocato Andrea Moratori, ha ricevuto in questi giorni l'avviso di conclusioni delle indagini, preludio a una possibile richiesta di rimbia giudizio. Andiamo sul nostro sito newsrimini.it che vi ricordiamo di seguire per essere sempre aggiornati. C'è una sentenza che riguarda un fatto di cronaca, palpeggia una collega e viene licenziato, ma il giudice ordina il reintegro. Era stato licenziato con effetto immediato e per giusta causa per aver palpeggiato una collega di lavoro. Il lavoratore, un 32enne operaio di una nota azienda del riminese che ha sempre negato il gesto, si è rivolto al giudice del lavoro del Tribunale di Rimini che ha stabilito l'illegittimità del licenziamento e il suo immediato reintegro. Una decisione motivata con la mancata costituzione del datore di lavoro, rimasto contumace e chiamato per legge all'onere di provare la sussistenza della giusta causa. Il 32enne, assistito dagli avvocati Paolo Lombardini e Filippo Gennari, si è visto assegnare anche una indennità di 3.600 euro commisurata alla mancata retribuzione patita durante il licenziamento. L'azienda è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali. Parliamo di sanità con il prossimo servizio. I suoi problemi e la sanità in generale sono stati al centro del convegno promosso dalla Fondazione Righetti di Rimini che ha visto come relatore il professor Renato Balduzzi, già ministro della sanità nel governo Monti. Una riflessione che ha provato a dare lo sguardo dell'addetto ai lavori su un tema delicato e complesso. Vediamo. Secondo un recente sondaggio, per il 40% degli italiani, erano solo il 13% due anni fa, la sanità è tra i problemi più sentiti. Accessibilità, liste d'attesa, investimenti sono stati tra i temi affrontati da Renato Balduzzi, ministro della sanità dal 2011 al 2013, ospite della Fondazione Righetti. Introdotto dalla presidente Mierna Ambrogiani e sollecitato da alcuni numeri presentati dal direttore di Tre, Primo Silvestri, Balduzzi ha dialogato con il giornalista Giorgio Tonelli. La garanzia e la qualità dei livelli essenziali di assistenza post-ondate pandemiche non era diminuita rispetto a prima della pandemia, anzi era aumentata. Questo è un dato che evidentemente faceva puni con tutto quello che ascoltiamo, però questi sono studi veri. I dati sulla spesa pubblica che in qualche modo parlano da sé. Ma se io sono in un periodo di ciclo economico positivo e la percentuale delle risorse destinate alla sanità non si alza, vuol dire che c'è una volontà politica. Fermo restando una cosa, perché poi bisogna le storie raccontarle sempre tutte. Noi abbiamo tuttora una spesa pensionistica fuori dall'ordinario e è ancora più difficile pensare che possano essere destinate tante risorse alla salute finché rimane un livello di evasione fiscale che non ha paragoni con tutti gli Stati che sono i nostri dove andiamo a fare i confronti. Ci sono specialità nel servizio sanitario nazionale che hanno liste di attesa più lunghe. Un po' perché lì mancano professionisti, un po' perché lì troppi professionisti lucrano. Il comitato sinistra del porto ieri ha incontrato la stampa nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo mercato ittico all'ingrosso di Rimini, progetto ormai di lunga data. I cittadini che hanno affisso diversi striscioni hanno spiegato le ragioni della loro bocciatura alla scelta dell'area. Un'area inadatta per i problemi logistici in mezzo alle case e con strade strette perché sacrificherebbe un prezioso spazio verde e perché l'attualità insegna che l'eccesso di cementificazione aumenta i rischi legati agli eventi meteoestremi. Le alternative non mancano, dice il comitato, tra quelle suggerite l'area degli ex mercatone 1 e metro vicina a car e autostrada. Per il comitato sinistra del porto, che si è messo in rete con gli altri comitati cittadini, la scelta dell'area verde tra via Muccioli e la Darsena non ha niente di logico. Noi abbiamo il massimo rispetto per i pescatori, per il loro duro lavoro. Quello che noi contestiamo, la nostra battaglia, è per la costruzione di un nuovo mercato in questo luogo. Quindi se il mercato ittico deve essere costruito, costruito fuori dal centro abitato per problemi ambientali, per problemi di logistica e perché questa è un'area residenziale, turistica e residenziale e secondo noi il posto più adeguato sarebbe dove ci sono altri mercati, più vicino dall'uscita dell'autostrada, perché gli acquirenti sono grossisti, non sono i cittadini. A fine ottobre c'era stato un incontro con gli assessori che avevano rassicurato su qualità e sostenibilità del progetto, anche dal punto di vista dell'accessibilità. Ad oggi l'amministrazione ha assegnato e finanziato l'incarico per l'aggiornamento del progetto che sarà migliorato rispetto a quello presentato nel 2021. La progettazione una volta completata sarà presentata ai cittadini, ma il coinvolgimento per il comitato è ben altra cosa. Noi cittadini non siamo stati assolutamente contattati, abbiamo chiesto noi un incontro per conoscere il progetto, lo stato di avanzamento, a che punto era, però il progetto non lo conosciamo. Ci hanno detto che sarà completamente cambiato rispetto a quello che abbiamo visto sui giornali, però non sappiamo altro, non sappiamo di più. L'amministrazione comunale di Rimini ufficializza i nomi del Sigismondo d'Oro 2024. Al già annunciato Istituto Maccolini, la residenza per anziani che da 124 anni opera al servizio delle persone più fragili a ricevere l'onorificenza cittadina, sarà Mario Guaraldi, pioniere dell'editoria intellettuale e innovatore. La cerimonia di consegna del premio è in programma venerdì 20 dicembre al Teatro Galli. Andiamo adesso un po' sul nostro sito newsrimini.it per darvi conto intanto del ponte di Tiberio vietato alle bici, ipotesi smentita dal sindaco Sade Golvad. Il ponte di Tiberio non sarebbe più percorribile in bici, una notizia che da qualche giorno circola in città dopo una variazione alla segnaletica stradale, ma a smentire l'ipotesi è lo stesso sindaco Yamil Sade Golvad che ha fatto un posto su Facebook. Rassicuro tutti, non è così, non esiste alcun divieto di percorrere il ponte Tiberio in bici. Il segnale stradale è stato posizionato all'ingresso del ponte Lato San Giuliano, segnala solo la conclusione della pista ciclabile. Dice il sindaco, quel segnale era tra l'altro già presente dal 2018, ma era semplicemente posizionato dalla parte opposta. Continuiamo a goderci in serenità a piedi o in bici il nostro ponte Tiberio, bellissimo, bimillenario senza auto. Nuovi spazi pubblici, sempre per la viabilità e le notizie locali di Rimini, intitolati a chi ha avuto un forte legame con la città. Piste ciclabili e aree verdi, la Giunta ha approvato alcune nuove intitolazioni di spazi pubblici dedicati a personaggi noti che hanno avuto un forte legame con la storia e l'identità riminese. Sono state rinominate due piste ciclabili, due aree verdi e tre rotatorie. Si rinnova quindi la toponomastica cittadina. C'è anche un percorso, il percorso ciclopedonale Armido della Bartola, pittore riminese scomparso all'età di 92 anni. Oltre a questi entrano così nella toponomastica riminesi i nomi della famiglia Gentili, Guido Coen, Gaia Ulenti, Gino Zannini, Armido della Bartola appunto, Leonida Casartelli. Tra le novità approvate l'intitolazione al percorso ciclopedonale Cantieri Gentili, seconda metà dell'800-1942 in via destra del porto nel tratto compreso tra il faro appunto e il porto che rende omaggio alla storica famiglia Gentili, dinastia di costruttori navali che ha svolto un ruolo di primo piano per lo sviluppo del porto del Rimini. Ci sono anche due del porto di Rimini. Due sono invece le aree verdi che entreranno nella toponomastica. La prima è il giardino situato all'incrocio tra via Filippo Re e via Ermete Novelli che diventerà un ricordo di Gino Zannini, politico e parlamentare riminese della democrazia cristiana. La seconda è il giardino posizionato in viale Giuseppe Mazzini all'angolo con Ciro Menotti. Sarà intitolata giardino Guido Coen, vittima delle leggi razziali 1886-1969. Andiamo poi a Miramare perché al costo di 500 mila euro, nuova illuminazione di interventi pedonali, una serie di lavori. In questi giorni sono in corso i lavori ai sottoservizi in via Marconi, un intervento di adeguamento della rete del gas e della rete idrica, propedeutico alla riqualificazione della via prevista per l'inizio del nuovo anno. Quindi alcuni adeguamenti alla rete del gas. Il tratto compreso tra via Pontini e via Martinelli è una sezione del viale Guglielmo Marconi maggiormente caratterizzato dalla presenza di servizi, attività commerciali e alberghiere, una zona dove per questo motivo inoltre è stato previsto un innalzamento della qualità urbana tramite ristrutturazione anche messa in sicurezza dei percorsi pedonali, della sosta veicolare, l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica. L'intervento prevede in particolare una nuova profilazione dei marciapiedi pedonali che saranno allargati per garantire maggior sicurezza ai pedoni. Si tratta di un progetto di riqualificazione il cui costo è previsto di circa 500.000 euro che intende rispondere alle esigenze di mobilità lungo la fascia urbana compresa tra la ferrovia e la spiaggia. Per quanto riguarda le tempistiche, l'inizio dei lavori è previsto nelle prime settimane del 2025 con conclusione entro l'estate. Vi diamo conto anche di vivere di turismo. A Rimini due giorni di incontri del settore extraalberghiero. Oggi e domani ne parleremo anche nella puntata di oggi di Tempo Reale dopo il telegiornale. Overtouring, cambiamento climatico, sostenibilità e capacità di generare felicità per gli ospiti. Saranno alcuni temi affrontati durante la prima giornata del Vivere di Turismo Festival. ai nastri di partenza. Non mancheranno poi l'analisi dei flussi turistici e le stime per la prossima stagione, quella del 2025. Si parte oggi alle 9.30 con l'opening inaugurale alla presenza dell'assessore Iuri Magrini per i saluti istituzionali, il presentatore giornalista Rai Paolo Notari e poi Danilo Beltrante, il fondatore di questa rassegna, curare l'intro a questa seconda edizione. Poi sul nostro sito vedete qui l'elenco di tutti gli incontri del festival. Si parlerà a qualità degli annunci su Airbnb, benessere, cultura, crescita economica, l'impulso della Homa Staging, sostenibilità, piccoli gesti per affrontare il cambiamento climatico, che è un tema che non manca, e l'over tourism, la sfida di un equilibrio sostenibile tra turismo e comunità. Andiamo verso la conclusione del nostro telegiornale con il prossimo servizio, perché parliamo di sport, prima di parlare della presentazione della nuova casa del Rimini, come vedete alle mie spalle, parliamo di basket, perché ci sono state le parole del vice allenatore, dell'assistente allenatore e di coach dell'Agnello, perché questa sera RBR, in un campionato che sta sorridendo decisamente alla squadra biancorossa, torna in campo al Flaminio contro Avellino alle 21, i campani, gli avversari navigano a centro classifica con 4 vittorie e 5 sconfitte, Sergio Luisa, assistente di coach dell'Agnello, mette però in guardia i suoi dai possibili pericoli di questa sfida. Sentiamo. È una squadra con delle caratteristiche ben definite, perché è una squadra che ama correre tantissimo, cercano proprio i tiri nei primi secondi o in contropiede primario o attraverso l'utilizzo dei drag, dei pick and roll in transizione, e poi hanno secondo me due aspetti importanti del loro gioco, il post-up, soprattutto dei due americani, e l'imprevedibilità di giocatori come Mussini. Mussini probabilmente in questo momento è uno dei candidati all'NVP della stagione, ha una gran fiducia, è un giocatore che in attacco ha tante soluzioni, ha tanti minuti, la squadra lo riconosce come uno dei propri leader e poi gli altri giocatori conci del proprio ruolo danno il loro contributo. La circolazione della palla è fondamentale, se tu tiri forzato, prendi un tiro fuori dagli schemi o comunque diciamo che non è una soluzione migliore, la prima cosa è che ti esponi al contributo della squadra avversaria, non lo possiamo fare e quindi dobbiamo essere attenti, avere pazienza magari in attacco, ma cercare sempre la soluzione migliore. Vi dicevamo della presentazione della nuova casa del Rimini al pala congressi di Rimini, del progetto della nuova casa del Rimini giovedì 14 novembre domani, convoca la conferenza stampa di presentazione della Responsible Health and Performance Center 14 novembre alle 14.30 nella sala della marina al pala congressi di Rimini via della Fiera 23, ricordiamo che sarà possibile anche per il pubblico accedere ovviamente fino a esaurimento posti. Saranno presenti la presidente del Rimini Stefania Di Salvo, il presidente di Responsible S.P.A. Stefano Petracca, il sindaco di Rimini Yamil Sadegolvad e Giorgio Tana, DG della Rimini, Giorgio Tana, direttore di sviluppo commerciale di Responsible e il DG del Rimini FC, il direttore generale Giuseppe Geria e del presidente della Lega Matteo Marani. Parliamo ovviamente dell'ex area Ghigi che diventerà, come verrà presentato nel progetto, la nuova casa della Rimini Football Club. Prima di chiudere questa edizione del nostro telegiornale ovviamente andiamo a dare uno sguardo al meteo, al mattino sereno, poco nuvoloso oggi salvo addensamenti, soprattutto sui rilievi centro-orientali in graduale attenuazione. Dal pomeriggio transito di nuvolosità alta è stratificata a partire da nord in intensificazione in tarda serata. Per quanto riguarda le temperature, minime in diminuzione nei centri urbani compresi tra 2 e 4 gradi nelle pianure emiliane e tra 4 e 6 gradi in Romagna. Massimi pressoché stazionari intorno ai 12-13 gradi. Per quanto riguarda i venti deboli variabili con locali rinforzi lungo la costa, mare mosso con moto ondoso in temporanea attenuazione nel pomeriggio e di nuovo aumento in serata. Chiudiamo con le previsioni per la provincia di Rimini di oggi, mercoledì 13 novembre, si altereranno sole nuvole in mattinata così come al pomeriggio, ma sostanzialmente una giornata serena, temperatura massima 13 gradi in costa e 7 gradi sui rilievi, ovviamente assenti le precipitazioni. Siamo arrivati in fondo a questa prima edizione del nostro telegiornale di oggi, Icaro Tg Mattina, vi rimando al nostro sito newslimini.it, vi rimando a Icaro Play per tutti i contenuti e vi chiedo di restare su Icaro TV perché tra poco c'è tempo reale, l'informazione torna con Icaro Tg pomeriggio alle 13 e 15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.